Stiamo leggendo insieme già da qualche video un testo fondamentale della storia della filosofia greca l'Apologia di Socrate scritta da Platone proprio in ricordo del processo che toccò, che colpì il suo maestro Socrate abbiamo già letto alcuni capitoli, siamo arrivati al capitolo ventunesimo dobbiamo proseguire oggi dal capitolo ventiduesimo come al solito leggerò il testo originale, in italiano tradotto ovviamente e poi lo commenterò per voi andiamo a cominciare un po' di caffè nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare che mi hanno regalato i miei alunni con me ci sono come al solito i miei compagni d'avventura cioè Bartman, Topolino, De Andrè e Tolstoi io mi chiamo Armando Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori insegno in un liceo scientifico e dal marzo del 2020 sto usando questo canale per proporre delle video spiegazioni di storia e di filosofia a volte anche di educazione civica a volte perfino qualche live ultimamente perfino dei podcast insomma tanta roba per parlare di storia e filosofia seguendo generalmente quello che si fa alle superiori ma poi come vedrete se andate ad esplorare fornendo anche materiale che può essere molto utile all'università o spero sia molto utile all'università o anche per persone curiose che hanno voglia di approfondire certi temi di riscoprirli da un po' di tempo come dicevo nella premessa stiamo però leggendo insieme l'Apologia di Socrate un testo importantissimo, fondamentale che in realtà è anche piuttosto breve, si legge in fretta ma che sto anche commentando in descrizione ve lo dico subito trovate la playlist con le puntate precedenti e come vedete anche dal sommario che trovate sempre sotto il video è diviso in capitolo e commento a capitolo capitolo, commento a capitolo così se volete semplicemente sentirvi il testo di Platone potete saltare i miei commenti se volete invece una visione più ampia ascoltate anche i commenti abbiamo già letto alcuni capitoli, siamo arrivati al capitolo ventunesimo proseguiamo adesso col capitolo ventiduesimo capitolo ventiduesimo appunto ma perché mai alcuni godono a passare con me il tempo? voi o Atenesi l'avete unito e io vi ho detto la verità essi godono a udire e esaminare quelli che si credono sapienti e non sono certo, ella è cosa non spiacevole e come io affermo a me è stato commesso da Dio che facesse questo per vaticini e per sogni e per tutti quei modi che divino fatto in ordinar cosa alcuna a uomo usati mai avesse e queste o Atenesi sono cose vere e ben si dimostrano impero che se di giovani quali corrompo io quali io ho corrotto bisognava se alcuni di essi venuti su di anni conobbero che io a loro da giovani detti mali consigli che montati quassù mi avessero accusato e preso di me vendetta e non volendo essi bisognava che padri, fratelli, congiunti se mai quei di loro casa ricevettero da me alcun male ora se ne ricordassero e se ne vendicassero molti di loro sono qui presenti io li vedo prima Critone qui della mia età e della mia tribù padre di Critobulo qui poi Lisania lo Sfettio padre di Eschine qui e anche Antifonte qui il Cefisiano padre di Epigene e questi altri qui i fratelli dei quali conversarono Nicostrato il figliuolo di Teozotide fratello di Teodoto Teodoto poi è morto e non pregherà che stia zitto e paralò qui il figliuolo di Demodoco del quale era fratello Teagete e questo Adimanto figliuolo di Aristone del quale fratello questo Platone qui ed Eantodoro del quale fratello ha pollo d'oro qui e vi posso nominare altri molti alcuni dei quali bisognava bene che Meleto messo avesse innanzi come testimonio nella sua orazione e se allora se ne fu dimenticato lo mette innanzi ora io gli cedo il luogo se li ha parli ma cittadini troverete tutto il contrario tutti pronti ad aiutare me il corrompitore colui che ha fatto male a quelli di loro casa come dicono Meleto e Anito forse i corrotti avrebbero alcuna ragione di aiutarmi ma i non corrotti uomini già vecchi parenti loro quale altra ragione hanno aiutandomi se non la diritta e la giusta la quale è che Meleto essi sanno che mentisce e io dico il vero allora in questo capitolo ventiduesimo Platone sì Platone Socrate Platone l'autore ma riporta le parole di Socrate fa tutta una serie di elenchi di persone avete sentito Critone Lisania Antifonte lo stesso Platone viene citato dice voi dite caro Meleto cari accusatori dite che io plagio le persone che io rovino le persone ebbene se fosse vero potreste portare dei testimoni contro di me potreste portare o le persone che ho plagiato che potrebbero accusarmi di averle plagiato o al limite i loro parenti perché dice a un certo punto magari loro sono plagiati effettivamente non sono in grado di testimoniare i loro parenti chi è di casa loro chi vive con loro lo sa bene se sono stati plagiati oppure no eppure voi quando mi avete accusato dice Socrate non avete portato questi testimoni perché mai volete portarli ora vi lascio il posto portateli a testimoniare contro di me ma forse se non li avete portati è perché loro non vogliono testimoniare contro di me perché non hanno nulla da rimproverarmi nessuno dei miei tra virgolette è allievi anche se non sono veri allievi e tra i parenti di questi ha voglia di accusarmi perché sarebbe ingiusto perché sanno che sarebbe una menzogna capitolo ventitresimo via gli argomenti sono su per giù questi che io avrei per difendermi e forse altri simili e tosto si sdegnerebbe alcuno di voi se si ricordasse che combattendo per cause di minor momento di questa mia egli pregò e supplicò ai giudici con molte lacrime menando quassù i suoi piccoli figliuoli a ciò che quelli a grande commiserazione movesse e molti altri familiari e amici vedendo che io ancora che paghi essere nello estremo pericolo non fo nulla di tutto questo ciò pensando e tosto siccome punto da me stizzito con istizza gitterebbe il voto nell'urna ora se alcuno di voi è così disposto non affermo che sia se è mi par che io direi convenevolmente dicendo così a lui oh ottimo uomo parenti ho anch'io e qui fa quello che dice omero né di quercia sonnato né di pietra ma di uomini parenti ho i figliuoli tre un giovinetto e due fanciulli eppur non menerò quassù niente di loro per pregare che mi assolviate ciò non farò io e perché non per orgoglio o atenesi né per disprezzo di voi quanto alla morte se la guardo con coraggio in viso o no gli è un altro discorso ma sì perché non mi par bello per la reputazione mia e vostra e di tutta la città ciò fare in quest'età poi con il nome che ho vero o falso che sia che tutti credono in qualche cosa socrate essere pur differente dagli altri uomini or se così fossero quelli che o per sapienza o fortezza o qualsiasi altra virtù paiono segnalarsi tra voi sarebbe vergogna e di questi tali io ho avvenuto tante volte che pur parevano essere alcunché far cose da maravigliare quando li giudicavano i giudici credendo come avere a patire assai orribili cosa se morivano come se non uccidendoli voi sarebbero stati immortali essi mi pare che alla città facciano vergogna sì che alcun forestiero supporrebbe che quelli segnalati in virtù tra il popolo atteniese i quali e i presceglie ai magistrati e dagli altri onori questi niente riferiscano dalle donne non conviene dunque fare tali cose né anche noi che mostriamo rivalere un poco né a voi si converrebbe tollerarle se le facessimo anzi dovreste far chiaro che colui condannereste molto più il quale componesse di contesti pietosi drammi facendo ridicola la città che non colui il quale quieto se ne rimanesse ecco in questo capitolo ventitresimo c'è uno strano artificio retorico di socrates che dice a questo punto sto rischiando mi rendo conto di star rischiando una condanna molto dura potrebbe essere anche la condanna a morte e potrei fare come fanno molti che quando stanno per essere condannati portano su al tribunale i figli e tentano di impietosire la giuria mostrando che hanno figli che hanno famiglia e che se venissero messi a morte questi figli sarebbero abbandonati loro stessi e socrates dice io non farò come fanno questi però tanto che ci sono ve lo dico ho tre figli fa tutto questo discorso perché io non farò come fanno questi altri che portano i figli ma sappiate che io i figli li ho anch'io e sono tre appunto un fanciullo un giovinetto e due fanciulli e vabbè quindi non li porta però li fa presenta alla giuria e poi dice d'altronde sarebbe poco onesto da parte mia tentare di impietosire in questa maniera e sarebbe poco dignitoso da parte vostra farvi commuovervi per chi tenta di impietosire insomma c'è questo artificio retorico con cui Socrate cerca di mostrarsi diverso da tutti gli altri e però un po' lo zampino lo mette passiamo al capitolo dopo capitolo ventiquattresimo e lasciando la reputazione né mi par giusto il pregare il giudice né pregando procurar suo scampo ma si informare e persuadere lui impero che non per cotesto siede il giudice per dispensare graziosamente i diritti ma si per giudicare di quelli e giurò egli di non favoreggiare chi a lui paresse ma si di sentenziare secondo le leggi dunque non conviene né che noi avvezziamo voi a spergiurare né voi voi medesimi che pi non saremmo né voi né noi onde non vogliate o atenesi che io faccia cotali cose verso voi quali né reputo belle né giuste né sante specialmente io accusato di impietà per giove da questo me letto qui impero che egli è manifesto che se persuadessi voi e con il pregare voi sforzassi i quali avete giurato io insegnerei a voi a non credere che ci siano i dii e proprio in quel che mi difendo di cotesta accusa mi accuserei da me medesimo che negli dii non credo ma no non è così io credo atenesi come nì uno dei miei accusatori e lascio a voi e a dio che giudichiate di me nel modo che sarà meglio per me e per voi fu giudicato colpevole si sta arrivando alle strette come avete appena sentito Socrate dice vabbè non porterò i figli non tenterò di impietosirvi non vi chiederò neanche di fare favoritismi anche perché dice Socrate se vi chiedessi di favorirmi in qualche misura se cercassi di impietosirvi eccetera vorrebbe dire che non avrei fiducia negli dei vorrebbe dire che è vera l'accusa che mi fanno di non credere negli dei perché se io ho davvero fiducia negli dei posso avere fiducia che il giudizio che voi emetterete sarà giusto se invece tentassi di imbrogliare di corrompervi di non farvi rispettare il giuramento che avete fatto di fedeltà agli dei allora lì sì che mi dimostrerei empio come mi accusano di essere ma io non sono veramente empio io ci credo agli dei quindi mi fido che gli dei vi dirigeranno nella scelta giusta conclude e subito il capitolo se conclude con però la notizia della colpevolezza fu giudicato colpevole in effetti la giuria dopo aver sentito la ringa difensiva di Socrate si riunì e a maggioranza non larghissima per la verità giudicò Socrate colpevole ma la storia non è ancora finita capitolo venticinquesimo di questo che è avvenuto che voi o Atenesi mi avete condannato per molte ragioni non mi sdegno e specialmente perché mi è giunta non inaspettata la cosa anzi mi maraviglio assai del numero di voti dell'una e dell'altra parte perché non mi pensava che avesse essere differenza così poca ma si bene molta ma ora si vede che se soli 30 voti fossero caduti giù nell'altra urna scampava io ma anche così da Meleto sono scampato non pur scampato ma è manifesto ognuno che se non fosse montato quassù a nito e l'icone egli doveva pagare mille dramme per non aver egli avuta la quinta parte dei voti qui Socrate sta parlando di nuovo e commenta il risultato dice beh mi avete condannato ma in fondo me l'aspettavo dice lui me l'aspettavo e in fondo anzi quello che mi sorprende non è l'essere stato condannato ma la poca differenza tra chi ha votato per la condanna e chi ha votato per la soluzione solo 30 volti di differenza tra chi ha votato contro di me e chi ha votato a favore mio e dice in fondo prova del fatto che Meleto non ha avuto gioco facile ha dovuto farsi aiutare da anito e l'icone perché altrimenti questi voti erano proprio pochini 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 capitolo 26esimo colui vuole dunque la mia morte sia ma che pena mi assegnerà da me o Atenesi è chiaro quella che merito e quale pena debbo patire o pagare io per ciò che in mia vita non mi quietai mai dalla voglia di apprendere per ciò che non curando di quel che i più curano danaro governo della casa esser capo di milizia o capo popolo e gli altri maestrati e non curando delle congiurazioni e sedizioni nella città giudicandomi di più temperato animo che non si convenisse perché mischiandomi dentro salvo rimanessi là non andai dove andando non poteva giocare niente né a voi né a me ma dove poteva fare a ciascuno privatamente il maggior beneficio là andai provandomi di persuadere ciascun di voi che non dovesse curare delle sue cose prima che di sé medesimo a ciò che buono di venisse e savio quanto potesse né delle cose della città prima che della città e via via a questo modo adunque quale pena merito io se sono così non pena ma premio se io mi devo assegnare quel che in verità merito e un premio che mi convenga e che si conviene a povero e pur benefico uomo il quale ha bisogno di non intendere ad altro che a confortare voi al bene nulla è più che si convenga come l'essere cotale uomo nutricato nel pritaneo molto più che se alcun di voi con cavallo o biga o quadriga vinto avesse nei giochi olimpici impero che quello vi fa parer felici io vi fo essere e quello non ha niente bisogno di cibo io sì se mi devo dunque assegnare quel che merito questo mi assegno vitto nel pritaneo allora in questo capitolo ventiseiesimo Socrate è chiamato a proporre una pena perché questa era l'abitudine per i cittadini attenesi almeno in certi tipi di processi si poteva essere riconosciuti colpevoli o innocenti ma a volte quando si veniva ritenuti colpevoli il tribunale chiedeva in fondo anche all'accusato anche al colpevole di proporre una pena la proponeva l'accusatore ma anche l'accusato poteva proporre una pena che gli sembrasse consona poi la giuria vagliava e decideva che pena assegnare allora Socrate effettivamente qui è chiamato anche lui a proporre una pena ma dice bisogna assegnarmi la pena che mi merito ma che pena mi merito non la morte non le pene reali in realtà guardate bene io più che la morte meriterei una pena molto più lieve anzi più che una pena una ricompensa perché Socrate insiste io non non faccio il male della città io faccio il bene della città io lavoro per voi lavoro per il vostro bene vi spingo verso il bene e allora voi non dovreste condannarmi dovreste premiarmi con ad esempio essere mantenuto vitto nel Britaneo cioè dovreste darmi da mangiare nel Britaneo luogo in cui venivano celebrati gli eroi di solito i grandi vincitori delle olimpiadi eccetera venivano celebrati lì allora Socrate dice loro vi fanno sembrare felici io vi rendo felici io vi vi porto al bene veramente più di loro e quindi più a me che a loro dovreste dare vitto alloggio nel Britaneo capitolo 27 dicendo così vi parrà forse che io dica per quel sentimento medesimo che quando ho detto della commiserazione e supplicazione per orgoglio ma ciò non è Atenesi piuttosto è che io sono persuaso che mai non ho fatto torto a nessuno volontariamente ma di questo non persuado voi però che poco tempo è che conversiamo insieme che se presso voi fosse una legge come presso altre genti che non si possa giudicare della morte in un solo di ma si bene in molti sareste persuasi credo ora in si piccio al tempo non è facile cosa dissipare grandi calunnie ma persuaso io di non aver fatto torto a nessuno non ho voglia neanche di fare torto a me medesimo e dire contro me che sono degno di partire del male e condannarmi da me e per paura di che che non riceva la pena che vuol meletto la quale dico non so se è male né se è bene e per scegliermi in cambio qualche pena la quale so essere male davvero e quale la carcere e perché devo vivere in carcere sommesso al sovrastante magistrato agli undici danari forse e stare in ceppi in sino a che non avrò pagato ma gli è il medesimo che la carcere che danari da pagare non ne ho mi condannerò all'esilio e forse mi condannereste voi a questa pena ma dovrei essere accecato dall'amore della mia anima o tenisi se fossi si irragionevole che non potessi ragionare così che se voi che pure siete i miei cittadini non siete stati buoni di sopportare la mia conversazione e i miei discorsi ma vi furono gravi odiosi tanto che cercate di liberarvene come li sopporteranno gli altri o no e poi la bella vita che farei io a questa età tramutarmi sempre d'una città in altra sempre cacciato via perché so bene che dovunque vada se io parlo mi ascolteranno come qui i giovani e se non li voglio essi mi cacceranno via persuadendo a ciò fare i vecchi e se li voglio mi cacceranno via i padri e parenti loro per cagion di loro qui nel capitolo 26 c'è un discorso all'inizio piuttosto in realtà orgoglioso anche se Socrate dice non è orgoglio ma poi anche un po' triste un po' malinconico di Socrate perché dice e parte dicendo così beh signori potete sembrare offesi dal fatto che io dica che dovreste mantenervi potrebbe esservarvi sembrarvi un discorso tracotanto orgoglioso ma in realtà non è orgoglioso dice Socrate io sto semplicemente tenendo fede a quello che penso io penso di non aver mai agito male volontariamente penso che tutto quello che ho fatto l'ho fatto davvero cercando il bene di Atene ne sono convinto e allora perché dovrei proporre per me stesso una condanna se penso di aver agito bene sarebbe illogico sarebbe incoerente con quello che ho sempre sostenuto ad esempio che pena potrei proporre qua fa una carrellata delle possibili pene che forse Socrate poteva proporre ad esempio dice potrei proporre il carcere no potrei proporvi di farmi mettere in carcere ma perché in fondo perché dovrei stare in carcere se ho agito bene potrei proporvi una multa dei danari dice ma perché non ho neppure soldi dovrei finire ai ceppi cioè incatenato perché non avrei comunque i soldi per pagarvi dovrei proporre l'esilio dice a un certo punto effettivamente crimini di questo tipo l'accusa di impietà molto spesso comportava una condanna all'esilio era accaduto anche ad altri filosofi ricorderete lo stesso Protagora ad esempio quindi l'esilio era la pena più semplice più comune in questi casi infatti Socrate dice avrei potuto proporre l'esilio e forse voi avreste accettato però dice Socrate anche però in fondo se anche me ne vado da Atene finisco in un'altra città ricomincio a far filosofia lì ma ragazzi miei dice Socrate non mi avete sopportato voi che siete i miei concittadini che mi conoscete bene come posso pensare che mi sopportino gli abitanti di altre città anche in altre città potrei andare incontro allo stesso destino e potrei essere cacciato e cacciato ancora e cacciato ancora ho una certa età e passare la vita a cambiare città ogni mese non mi aggrava e d'altronde so già quello che accadrà se andrò in un'altra città inizierò a filosofare e i giovani probabilmente mi verrebbero dietro i vecchi si arrabbierebbero e capiteremo sempre in questo circolo capitolo ventottesimo dirà forse alcuno ma non sei buono Socrate di vivere tacendo stando quieto dopo andatone via da noi ma far intendere ad alcuni di voi questo è la più malagevole cosa perché se dico che questo è disubbidire al di Dio e che è impossibile che me ne stia quieto pensando che voglia ironizzare non mi crederete voi e se dico che è grandissimo bene a un uomo far ogni di ragionamenti sulla virtù e quegli argomenti sui quali mi udivate conversare e risaminare me e gli altri la vita senza esame è indegna di uomo se dico questo tanto meno mi crederete voi eppure così è come dico ma non è cosa facile persuadervene ma d'altra parte anch'io non mi sono assuefatto a credermi meritevole di alcun male onde se avea danari mi multava in danari quanti ce ne voleva che non me ne venia danno ma non ne ho salvo che non vi contentiate di quel tanto che posso pagare io una mina d'argento la potrei forse pagare dunque io multo me di tanto Platone che è qui Atenesi e Critone e Critobulo e Apollo d'oro vogliono che io mi multi di trenta mine rimanendo essi mallevadori dunque io multo mai di tanto e ventano mallevadori del denaro questi qui persone delle quali ci è da fidarsi fu condannato a morte qui si arriva il clou come avete notato inizia dicendo beh qualcuno mi dirà ma ascolta stai zitto impara tacere Socrate perché la tua lingua ti mette nei guai e lui dice io non sono capace non è possibile l'incarico di fare filosofia l'ho ricevuto da Dio dagli dèi e quindi devo tenere fede a questo incarico quindi sappiate che io farò sempre filosofia una vita senza esame e indegna di uomo ogni uomo dovrebbe indagare se stesso sulla virtù ogni uomo dovrebbe riflettere come faccio io e quindi sappiate che io non smetterò l'unica cosa che posso ammettere l'unica pena che proprio se proprio insistete posso assegnarmi è il pagamento di una multa ma visto che non ho soldi deve essere una multa molto piccola dice forse potrei pagare una minna d'argento che è una cifra irrisoria poi ci sono vicino gli altri Platone gli altri gli dicono insistono allora dice arriviamo a 30 mine il massimo che posso concedervi è una multa di 30 mine conclude il suo discorso e la giuria lo condanna a morte capitolo 29 per non aspettare un poco di tempo voi atenesi non mi avrete e biasimo da coloro che vogliono vituperare la città di aver ucciso Socrate uomo sapiente che mi diranno sapiente anche se non sono quelli che vi vogliono fare onta la cosa vi veniva da sé che mi morissi se aspettavate un poco perché guardate l'età come già è lontana dalla vita e vicina alla morte ciò dico non a tutti voi ma sia a quelli che hanno votato la mia morte e a questi stessi dico credete atenesi d'avermi colto di quei cotali argomenti sprovvisto con i quali poteva persuadere voi se credeva che bisognasse dire e fare di tutto pur di scampare dalla condanna o no sprovvisto sì non di argomenti ma sì di audacia e impudenza e non disposto niente a parlare in quei tali modi a voi dolcissimi a udire piangendo e lamentandomi e altre molte cose facendo e dicendo di me indegne dico ma quali a udire vi hanno avvezzato gli altri ma né allora io credeva che bisognasse far cosa a niuna servile per paura del pericolo né ora mi pento di essermi così difeso anzi più assai volentieri scelgo di essermi difeso in questo modo e morire che non in quello e vivere perché né in tribunale e neanche in guerra non conviene né a me né ad alcun altro far di tutto pur di scampare della morte perché è certo che molte volte in battaglia uno scamperebbe della morte o se gittasse le armi o se verso gli inseguitori egli supplichevole si volgesse e che ci è nei singoli pericoli in molti modi per fuggire la morte si veramente che dia il cuore di fare e dire ogni vile cosa ma ateniesi badate non sia malagevole non sia questo il fuggire la morte ma si malagevole più assai il fuggire la malvagità la quale corre più veloce della morte e ora io siccome tardo e vecchio colto fui da quella che è più tarda i miei accusatori siccome più gagliardi e feroci da quella che è più veloce e io me ne vado condannato da voi a essere morto costoro condannati dalla verità a essere malvagi e ingiusti e io accetto la pena mia e questi la loro dovea forse essere così e credo che ciascuno ricevuto a sua misura in questo ventinovesimo capitolo socrate non le manda a dire alla giuria dice avrete tutto in poi l'onta di aver ucciso socrate un uomo sapiente anche se in realtà sapiente non sono ma mi chiameranno sapiente pur di attaccarvi ateniesi e quindi un'onta terribile di aver mandato a morte un uomo giusto d'altro ne siete stati anche sciocchi perché bastava aspettare ho una certa età dice socrate in effetti era piuttosto anziano bastava aspettare sarai morto comunque a breve ma così vi siete macchiati di un'onta e dice in fondo io muoio sereno perché muoio avendo fatto la cosa giusta non essendomi macchiato di alcun crimine e muoio anche non essendomi abbassato a chiedere trattamenti speciali a tentare di impietosire la giuria non ho fatto niente di tutto questo mi sono difeso con onore mi sono difeso riportando ciò che ritenevo giusto e quindi muoio tutto sommato contento di come ho agito voi invece non siete contenti non sarete contenti perché avete sbagliato perché avete agito nel male e per questo in fondo riceverete anche voi la vostra pena per quello che avete fatto io esco meglio dei miei accusatori da questo processo questa è l'idea che Socrate vuole far passare capitolo trentesimo e ora voi che mi avete votato contro voglio vaticinare quel che vi succederà dopo perché sono già nell'ora che più gli uomini vaticinano essendo presso alla morte dico a voi che mi avete ucciso che tosto cadrà sopra voi vendetta più aspra molto per Giove che non quella che presa avete di me uccidendomi che voi avete fatto questo immaginando liberarvi dal dover rendere ragione di vostra vita ma vi succederà tutto il contrario vi dico perché accusatori contro voi se ne leveranno più molti i quali ratteneva io non accorgendovene voi e più saranno aspri e vi irriteranno più quanto più sono giovani che se pensate uccidendo uomini rattenere alcuno da rampognare a voi la non diritta via pensate stoltamente impero che non è cotesta liberazione né possibile per nieno modo né bella ma quella è bellissima e molto agevole che è non in fare impedimento agli altri ma sì in procurare di rendere quanto si può buoni se medesimi dopo questo vaticinio fatto a voi che mi avete votato contro mi accommiato da voi nel capitolo tantesimo Socrate lancia una sorta di maledizione contro i giudici che hanno votato per la sua morte dice vi arriverà la vendetta perché finché c'ero io finché c'ero io io facevo un po' da tappo sembra dire Socrate cioè tenevo buoni tutti quelli che avevano voglia di scagliarsi contro di voi tutti quelli che avevano da rimproverarvi qualcosa in fondo il mio fare li teneva tranquilli ma adesso che io morirò tutti si scateneranno contro di voi e per voi sarà peggio maledizione a voi capitolo trentunesimo ma con voi che avete votato la soluzione ragionerei volentieri di una cosa che mi è avvenuta mentre i magistrati d'altro si occupano e non è per anco l'ora di andare là dove mi aspetta la morte rimanete dunque con me questo tempo che nulla vieta che noi conversiamo insieme insinua tanto che è lecito perché io voglio mostrare a voi come ad amici che significa mai quello che mi è avvenuto mi è avvenuto o giudici chiamandovi giudici parlo direttamente una certa cosa maravigliosa però che la solita vaticinatrice voce quella del demone tutto il tempo innanzi la sentiva io molto frequentemente contrariandomi pure in piccole cose se io stava per non far bene ma ora mi succedono cose come voi stessi vedete le quali si crederebbero e si credono gli estremi mali e non di meno né stamane uscendo di casa mi contrariarò il segno dell'iddio né salendo qua in tribunale né mentre difendevami qualunque cosa fossi per dire benché parlando altre volte sovente mi fermasse la parola a mezzo ma ora durante questo processo che che facessi o dicessi non mi contrariò mai quale la cagione quella che penso io ve la dirò è pare che quel che mi ha caruto sia un bene e non c'è caso che pensiamo dirittamente noi quanti crediamo che il morire sia un male una gran prova è che non poteva il solito segno non contrariarmi se io era per far cosa che non fosse buona qua Socrate aveva detto mi commiato ma in realtà dice aspettate un attimo mi trattengo un attimo con quelli che hanno votato per la mia assoluzione per i giudici onesti diciamo mi trattengo un attimo con loro vi voglio dire questo cari giudici vi ho detto prima che io sento sempre la voce del demone interiore che mi dice non fare una cosa non fare quest'altra cosa mi blocca quando sto per fare una cosa sbagliata e però vi voglio dire che durante tutto il processo già da stamattina quando mi sono alzato poi quando sono salito quando ho parlato questa voce non si è mai fatta sentire ma una volta anche nella ringa la voce mi ha detto fermati Socrate stai per sbagliare e allora questo cosa vuol dire secondo Socrate vuol dire che quello che mi è accaduto non è un male ma è un bene la ringa che ho fatto è stato un bene la condanna che ho ricevuto è stato un bene noi crediamo molto spesso che la morte sia un male ma forse non è affatto un male capitolo trentaduesimo e vediamo per quest'altra via di intendere come c'è da sperare molto che sia un bene imperciò che morire è una delle due cose o come non essere nulla e il morto non ha più nieno sentimento di niena cosa o secondo che dicono è un cotal transito e tramutazione dell'anima di questo luogo qui ad un altro luogo e se non c'è nieno sentimento ed è come un sonno allora che dormendo non si vede neanche sogno ognuno sarebbe un guadagno meraviglioso la morte perciò che io penso che se mai alcuno scegliesse una tal notte nella quale si fosse addormentato così profondamente che egli neanche è venuto avesse alcun sogno e contrapponendo a quella le altre notti e giorni di sua vita ed esaminando dovesse poi dire quante notte notti e giorni passati ha in sua vita meglio e più dolcemente di quella io penso che non pure un privato uomo ma altresì il gran re questo troverebbe facili assai a contare in comparazione a tutti gli altri giorni e alle altre notti e se tale la morte un guadagno essa è io dico impero che così appare nulla può essere tutto il tempo che una notte se poi la morte è come peregrinazione di qua ad un altro luogo è vero è tutto quel che si dice che là abitano tutti i morti quale maggior bene di questo potrebbe essere mai o giudici impero che se alcuno pervenendo nell'ade liberatosi di questi che quasi danno nome di giudici troverà i veri giudici i quali si dice che anche là giudicano Minosse e Radamanto ed Eaco e Triptolemo e tutti gli altri similei i quali in vita loro furono giusti forse che sarebbe da disprezzare co tale peregrinazione o al contrario a qual prezzo non torrebbe qualunque di voi potere conversare con Museo e Orfeo e Esiodo e Omero morire molte volte voglio io se tali cose sono vere o la conversazione maravigliosa che là sarebbe la mia quando mi abbattessi in Palamede e agli aceri di Telamone e in alcun altro di quelli antichi morti per ingiusto giudicio certo a paragonare i casi miei e loro non mi dispiacerebbe e specialmente che è il meglio a passare il tempo esaminando e perscrutando quei di là come faceva questi di qua e vedere anche tra quelli chi è savio e chi crede di essere ma non è però che quanto non pagherebbe alcuno di voi o giudici se interrogare colui potesse che la grande osteme contro la Troia o Ulisse o Sisifo o tanti altri uomini e donne che potrei nominare io e ragionare e conversare là con essi ed esaminare tale beatitudine sarebbe ella che forte cosa è a dire nemmai avviene per cagione di contesto esame che quelli di là uccidano però che oltre alle cose oltre alle altre cose onde più felici sono quelli di là anche questi di qua quelli sono perpetuamente immortali se è vero ciò che si dice siamo ormai in dirittura d'arrivo siamo quasi alla fine siamo al penultimo capitolo il trentaduesimo qui Socrate continua il suo discorso ai giudici che hanno votato per la soluzione e dice vi spiego perché secondo me in fondo forse la morte è un bene perché dice ci sono due possibilità una morte è un sonno senza sogno un sonno eterno e allora in fondo non sarebbe un male perché vorrebbe dire trovare la pace tutti noi vorremmo un sonno eterno senza sogni un sonno pacifico dopo aver vissuto una vita così faticosa difficile quindi primo caso tutto sommato è un guadagno oppure la morte è un passare di luogo un cambiare luogo un andare nell'ade e anche in questo caso sarebbe un guadagno perché andando nell'ade io potrei incontrare minosse potrei incontrare agli acce potrei incontrare Esiodo Omero Ulisse insomma un sacco di personaggi importanti famosi e quanto sarebbe bello poter conversare con loro poter discutere con loro e poter fare a loro quello che facevo qua agli atinesi cioè interrogarli usare il mio metodo metterli in difficoltà una pacchia quindi dice Socrate morirei mille volte se davvero potessi fare questo e quindi non c'è da aver paura della morte la morte può essere un bene capitolo trentatresimo l'ultimo ma dovete sperare bene anche voi o giudici in cospetto alla morte e se non altro credere per vero solo questo che a colui che è buono non accade male alcuno né vivo né morto e che gli di non trascurano le cose sue né quello che a me è avvenuto ora è per caso però che chiaro vedo che il morire ed essere liberato dalle brighe del mondo per me era il meglio perciò non mi contrariò mai il segno dell'iddio e io stesso non sono niente in collera con quelli che mi han votato contro e con gli accusatori quantunque non con questa intenzione mi avessero votato contro e accusato ma si bene credendo di farmi del male e in ciò sono da biasimare ma adesso io mi rivolgo ora e così li prego i miei figliuoli quando saranno giovani castigateli o cittadini tormentandoli come io voi se vi paiono piuttosto aver cura del danaro o d'altro che della virtù e se vi paiono voler mostrare ed essere qualche cosa non essendo nulla svergognateli come io voi perciò che non curano di quel che devono curare e si credono valere qualche cosa non valendo nulla se ciò farete avremo ricevuto da voi quello che giusto era che ricevessimo io e i miei figliuoli ma già ora è di andare io a morire voi a vivere chi di noi andrà a stare meglio occulto è a ognuno salvo che a Dio questo trentatresimo capitolo è l'ultimo qui si chiude l'apologia di Socrate e si chiude con un fare quasi poetico direi perché Socrate dice in fondo è proprio vero io ho ricevuto del bene in questo processo sembra male mi avete condannato a morte ma in realtà alla fine la morte è un bene e si vede che ha raggiunto il mio momento che gli dèi volevano questo pertanto non posso neppure lamentarmi con gli dèi non posso neppure lamentarmi con la giuria né con gli accusatori perché in fondo mi hanno fatto del bene e questo si collega a quello che Socrate pensava sempre chi fa il bene non può mai ricevere del male a colui che è buono non accade male a alcuno tutto ciò che accade a chi è buono è bene e infatti anche questo che è accaduto a me che sono buono è bene pare male la morte ma in realtà è bene è una liberazione quindi in fondo vi devo anche ringraziare voi non l'avete fatto apposta voi accusatori a condannarmi a farmi del bene pensavate di farmi del male ma in fondo siete stati utili anche voi e quindi me ne vado me ne vado sereno l'unica cosa attenzione quando i miei figli saranno grandi castegateli puniteli se vedete che non si comportano bene se vedete che prestano più attenzione al denaro che alla virtù se vedete che non sono cresciuti bene castigateli come io castigavo voi come io vi frustavo con le parole se ciò farete farete ciò che è bene farete ciò che è giusto perché io in fondo ho sempre agito nel giusto e arrivederci vado a morire qui non è descritta la morte di ciò che è con la cicuta è descritta in altri testi platonici però già l'apologia è piuttosto chiara lui va a morire c'è da dire che probabilmente la giuria che l'aveva condannato a morte come si capisce meglio in altri dialoghi appunto platonici nel critone in particolare probabilmente questa giuria pensava che Socrate sarebbe evaso come era abbastanza consueto nelle carcerie etnesi si poteva corrompere le guardie e fuggire ma Socrate è fedele a tutto quello che ha detto anche qui e durante il processo decide di rimanere e suicidarsi ecco abbiamo finito l'apologia di Socrate abbiamo letto tutti i capitoli che ci rimanevano li abbiamo commentati il percorso è stato non lunghissimo come vedete qualche video ma in realtà la lettura di per sé del libro è piuttosto veloce abbastanza comprensibile anche se in una vecchia traduzione che ho tentato di rendervi anche a parole mie il testo è interessante se avete voglia leggetevelo anche se l'avete già ascoltato è bello anche vedere le parole scorrere su carta e presto inizieremo a commentare anche altri testi altri libri altri brani perché quando si può è bene anche ricorrere ai testi originali oltre che spiegarli e commentarli è il racconto del processo di Socrate il racconto della difesa di Socrate che per ripendere se stesso riporta anche i punti salienti della sua filosofia pur senza trovare però purtroppo per lui assoluzione ma anzi non purtroppo per lui perché Socrate appunto riteneva un bene questa condanna uno dei processi più famosi della storia della filosofia e l'abbiamo visto insieme vi ricordo che in descrizione trovate i capitoletti in cui è stato diviso il video trovate anche i link a varie risorse alle playlist agli altri video della serie della prologia di Socrate ma anche ai podcast ai video di filosofia ai video di storia e anche i link social se volete seguirmi pure lì basta abbiamo finito ci vediamo presto per nuovi altri video di storia filosofia educazione civica ciao alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.